Si chiama Corri contro la violenza, la gara polistica organizzata dall'Associazione Arthur è presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Un'iniziativa simbolica promossa assieme a denti e istituzioni, fra cui il Comune di Napoli, che avrà luogo domenica 27 maggio con partenza alle 9 da Piazza Plebiscito. È fondamentale invitare tutti i cittadini ad essere in piazza il 27 di maggio, Corri contro la violenza. Non solo un evento sportivo, ma una gara di solidarietà, una raccolta fondi per finanziare campi estivi per minori a rischio. Perché quello che conta in questo momento è dare un segnale di sforzo, di impegno collettivo, di solidarietà, ma soprattutto di traguardo. Tutti contro la violenza il 27 maggio in Piazza del Plebiscito. Vi aspettiamo. Come Università e come Dipartimento siamo in prima linea e supportiamo al massimo questa tipologia di manifestazione. Oltre ai nostri doveri istituzionali di supporto a tutti questi ragazzi, noi intendiamo anche supportare manifestazioni che fanno uscire l'Università al di fuori del proprio ambito, proprio per cercare di combattere questo elemento, questa situazione incresciosa per i giovani e per il loro futuro. Numerosi i personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura, da Patrizia Oliva a Edoardo Bennato, che aderiscono al progetto e ne promuovono le finalità. Ci sono bambini che picchiano altri bambini. Bisogna andare dietro le loro storie per capire le responsabilità, che sono quasi sempre responsabilità del mondo adulto, e che bisogna fare qualcosa per prevenire questo, per evitare che i ragazzi di 14 e 15 anni si trasformino in carnefici dei propri coetanei. Questa è una città pluristratificata, dove le classi sociali non possono essere separate in per bene e per male. Il male travalica i confini della classe sociale ottocentescamente intesa ed entra dentro di noi attraverso modelli sbagliati, attraverso genitori fragili, attraverso le difficoltà di interpretare la vita come essere e non come avere. La gara si svolgerà sulla distanza di 5 chilometri. I primi tre classificati riceveranno una maglia della squadra del Napoli autografata dai calciatori. Che cosa possiamo fare? Ricordare, ribaltare questa azione così nefasta attraverso il ruolo dello sport, il ruolo dell'aggregazione, il ruolo delle associazioni, dare un'idea completamente diversa della città attraverso lo sport e soprattutto far capire che esistono delle strade che sono diverse da quelle che purtroppo percorrono alcuni ragazzi della nostra città. Quindi questa è l'idea di tenere insieme oggi tantissima gente, tante associazioni, i mondi più diversi della città che si uniscono e gridano no alla violenza.